Domani e lunedì l'Italia al voto per il rinnovo del Parlamento, il voto si esprime sul simbolo del partito prescelto. Ad Angri per il parcheggio delle MCM entra in campo la Proloco. Apriranno il prossimo 3 marzo i reparti di medicina specialistica ed oncologia del Santa Maria della Pietà a Nola. Omaggio a Benedetto XVI, la diocesi di Nola organizza una celebrazione eucaristica per giovedì prossimo. Questi i titoli principali ci rivediamo subito dopo la pubblicità. Grazie a tutti. Benvenuti. Iniziamo la nostra cronaca parlando delle elezioni di domani. Infatti seggi aperti domani lunedì per le elezioni del rinnovo del Parlamento. In campagna pletora di riste sia per la Camera dei Deputati che per il Senato. Il voto si esprime sul simbolo del partito prescelto. In preferenza la candidatura si può indicare ma non è prevista dalla legge elettorale. Seguiamo il servizio di apertura. Si apriranno domani i seggi per il rinnovo del Parlamento nazionale dalle ore 8 alle ore 22 e lunedì 25 febbraio dalle ore 8 alle ore 15 per le operazioni di voto. Alla loro conclusione inizieranno le operazioni di scrutinio. Poco più di 47 milioni sono gli elettori della Camera dei Deputati e poco più di 43 milioni sono gli elettori della Camera del Senato. Sia per l'elezione della Camera dei Deputati che per la Camera del Senato il voto si esprime con una croce o una barra nel riquadro che contiene il simbolo del partito prescelto. E' vietato scrivere sulla scheda il nominativo dei candidati o qualsiasi altra indicazione. E' ciò perché la legge elettorale non contempla il voto di preferenza. I parlamentari risulteranno eletti secondo la copertura dei seggi assegnati alla lista di appartenenza, secondo la relativa disposizione. Il riparto dei seggi per la Camera dei Deputati è su scala nazionale, per la Camera del Senato il riparto è determinato su scala regionale e il numero dei seggi è proporzionato alla popolazione. Il calcolo complessivo contempla il premio di maggioranza e la soglia di sbarramento. Per la Camera dei Deputati poi nella circoscrizione di Campania 1 sono 26 le liste, per la circoscrizione di Campania 2 sono invece 24, per la Camera del Senato sempre in Campania 27 le liste. La coalizione di centrodestra collegata con il Popolo della Libertà e la Lega Nord è formata da 9 liste. La coalizione del Partito Democratico e di Sinistra, Ecologia e Libertà è formata da 3 liste per Campania 1 e da 4 per il Senato. La coalizione capeggiata dal Premier Monti è composta da 3 liste alla Camera dei Deputati e da una sola al Senato. Altri partiti che però non fanno parte di coalizioni sono il Movimento 5 Stelle e Rivoluzione Civile. Gli agenti del commissariato di polizia a Nola hanno arrestato dopo curate indagini Carmine Librera di 29 anni, residente a Cicciano, a Rione Gescal, per il reato di detenzione ai fini di dispaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo aveva organizzato una vera e propria piazza di dispaccio a domicilio nella sua abitazione. Infatti i poliziotti all'interno dell'abitazione hanno rimenuto, nascosta in un calzino e sotto il guanciale in camera da letto, 97 grammi di Ashish e 3,8 grammi di Mariana, oltre che 4 dosi già confezionate e pronte per essere vendute. L'uomo è stato condotto al carcere di Poggio Reale. La questione parcheggio dell'area MCM continua a riservare sorprese e colpi di scena. Dopo la protesta dei commercianti che si sono costituiti in un comitato spontaneo e la raccolta di oltre 1200 firme per la riapertura dell'area, entra in gioco anche la Proloco. Il presidente Abate ha siglato un'intesa con il proprietario dell'area per la gestione dello spazio di interesse pubblico, ma l'amministrazione continua a respingere al mittente ogni richiesta di riapertura per l'impossibilità di cambiare la destinazione d'uso all'area. Vediamo. Si riempie di nuovi attori la questione del parcheggio dell'area della ex MCM ad Angri. Dopo i tentativi delle associazioni di categoria che hanno ottenuto minimi spazi per la sosta, che riducono i disagi ma non li risolvono, continua la battaglia del comitato spontaneo dei commercianti costituitosi per necessità dopo i disagi che la chiusura del parcheggio ha generato alle attività del centro. Con oltre 1200 firme raccolte con una petizione ancora aperta, rappresentano il gruppo attivo con il maggior numero di aderenti che vuole essere ascoltato, che vuol veder risolto il problema parcheggio. Adesso alla loro iniziativa si accoda anche la Proloco, presieduta da Giuseppe Abate, il quale si è proposto come mediatore tra le parti dopo aver stipulato un protocollo d'intesa con il proprietario dell'area, l'imprenditore Antonino Russo, che si è dimostrato disponibile a cedere e incomodato d'uso gratuito e temporaneo lo spazio per garantire la riattivazione della sosta in una zona nevralgica della città. La notizia è stata diffusa attraverso una locandina pubblica, dimostrando completa apertura alle associazioni di categoria e al Comitato per coordinare la gestione attraverso una modalità di autofinanziamento. Non sono mancate le polemiche con la Confesarcenti che ha dimostrato perplessità in merito all'iniziativa di Abate, definendo quasi provocatoria la proposta della Proloco che potrebbe generare scontri con l'amministrazione. Il Comune infatti continua ad essere fermo sull'impossibilità di provvedere al cambio di destinazione d'uso dell'area, negando quindi ogni possibilità di riapertura. Ma i commercianti si domandano perché, se oggi è impossibile, è stato permesso per anni l'esistenza di un parcheggio affidato nel tempo a diverse società private che hanno imposto tariffe e con gli ausiliari che hanno elevato contravvenzioni nei confronti di chi non aveva esposto il ticket o per sosta fuori orario. Un'attività svolta contravvenendo le normative vigenti? Un interrogativo forte è che i commercianti girano alle istituzioni ed in attesa dell'esito dell'incontro organizzato dalla Proloco per mercoledì prossimo, il Comitato dei Commercianti ha annunciato per domenica 3 marzo un nuovo sit-in con gazebo e raccolta firme. Un pusher del quartiere di pianura a Napoli, Carmine Ferraro, di 47 anni, sfuggito all'arresto nel corso di un blitz antidroga lo scorso 14 febbraio, è stato individuato e arrestato dai carabinieri mentre a piedi percorreva una delle strade di pianura. I militari hanno accertato che l'uomo selezionava gli acquirenti che si regavano ad acquistare la droga in un'abitazione che si trova in una piazza di spaccio della zona ritenuta sotto il controllo del clan camoristico Pesce Marfella. Domenico e Raffaele Rossetti, rispettivamente padre e figlio di 57 e 36 anni ritenute affiliate al Campbell Forte del Casertano, sono stati arrestati dagli agenti della squadra mobile della Questura di Benevento nelle rispettive residenze di Capodrise e Marcianise. L'accusa per entrambi di usura e distorsione a danno di alcuni imprenditori irpini e in particolare della Valle Caudina. Apriranno il prossimo 3 marzo il reparto di medicina specialistica e oncologico dell'ospedale Santa Maria della Pietà a Nola. Un'inaugurazione rimandata per ben due volte a causa della campagna elettorale. Vediamo. Un taglio del nastro rimandato per la campagna elettorale da poco conclusa ed in attesa di conoscere vincitori e vinti. Per due volte è stata rimandata l'apertura del reparto di medicina e oncologia del Santa Maria della Pietà. Era stata prevista la presenza del vescovo di Nola Benemino De Palma per una benedizione del reparto di multispecialistica. La nuova struttura conterrà 16 posti letto per la medicina e 12 per l'oncologia, 2 posti ordinari e 10 in e hospital e garantirà alla struttura sanitaria nolana un'operatività complessa di alcune patologie delicate. Il reparto dovrà avvalersi di una parte del personale infermieristico proveniente dall'ex ospedale di Pollenatroccia, attuale sede del reparto, dove si resta in attesa di una riorganizzazione del plesso al momento né distretto né ospedale. Tornando a Nola, la ristrutturazione dell'ospedale continua con la realizzazione del nuovo complesso operatorio e della rianimazione che dovrebbe avviarsi al completamento dopo il lungo contenzioso con la ditta esecutrice dei lavori che ha causato una situazione di stallo. In stato avanzato l'ampliamento del pronto soccorso la cui consegna è prevista per il prossimo 31 agosto. Gli operatori sanitari per determinare uno standard lavorativo ottimale chiedono il completamento degli organici e la revisione delle invalidità. Sul fronte della strumentazione si chiede l'attivazione di una risonanza magnetica, così come si mantengono gli impegni per il reparto di neurochirurgia e di chirurgia vascolare e dell'emodinamica. Sono aperte le iscrizioni al Master in Operation Management MOM, promosso dal Centro Specialistico di Alta Formazione del Comparto Industriale Aeronautico Campano. Il Master è destinato a 25 giovani laureati ingegneria o scienze nautiche ed aeronautiche, occupati, disoccupati e inoccupati. MOM è un programma per la formazione maggioreale rivolto a formare manager aziendali a contenuto tecnico e gestionale in aziende manifatturiere e di engineering che operano nei settori ad alta complessità dell'aerospazio e della difesa. La schiedenza per la presentazione delle domande del 5 marzo 2013. Il percorso formativo si compone di 500 ore e 40 di precorsi. I corsi avranno inizio l'11 marzo 2013. Per maggiore informazione e per l'iscrizione è possibile accedere al sito www.aeronauticaformazione.it. Sarà reso maggio a Benedetto XVI alla conclusione del pontificato. A renderlo sarà la diocesi paoliniana con la celebrazione eucaristica addendata giovedì 28 febbraio. Presiduta dal Vescovo Beniamino De Palma alla Catedrale di Santa Maria Assunta in Cielo a Nola. Vediamo. Grazie per il suo coraggio che ci aiuta a pensare e a riflettere. Grazie per il gesto della sua umiltà. Le interessa Cristo e la Chiesa. Grazie per l'amitezza e la bontà con la quale ci ha testimoniato l'amore di Dio. E ancora grazie per la sua simpatia all'uomo e ai suoi problemi. Sono questi i passaggi conclusivi della lettera con cui il Vescovo di Nola, Monsignor Beniamino De Palma, esprime a Benedetto XVI la gratitudine della Chiesa diocesana per la straordinaria testimonianza di fede e di verità donata al mondo intero durante il suo pontificato che si concluderà giovedì 28 febbraio. E proprio giovedì prossimo alle ore 19 nella Cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo sarà ufficiata la celebrazione eucaristica preseduta dal presule. È l'atto di omaggio che la comunità diocesana renderà Benedetto XVI. Intanto dal 28 febbraio al 7 marzo nella Chiesa del Gesù sarà inaugurata la mostra il cui logo recita Videro e Credettero, la bellezza e la gioia di essere cristiani. L'iniziativa si deve alla diocesi paolimiane e all'associazione Giovanni Merliano. La mostra si inserisce nel quadro delle manifestazioni dell'anno della fede promulgato da Benedetto XVI e vuole costituire un'opportunità per riscoprire il senso dei valori cristiani. L'amministrazione comunale ha aderito alla richiesta di patrocinio per la mostra condividendone gli obiettivi e gli auspici. Ed in esposizione domani, pesto il Teatro San Carlo a Napoli in occasione della prima della Requiem di Verdi diretta di Nicola Luisotti, Le vecchie lire. In mostra i volti della musica e della letteratura italiani dal prezioso archivio della Banca d'Italia, una speciale esposizione di storiche banconote come quella da 1000 lire con il ritratto di Verdi, quella di 100.000 lire con il volto di Manzoni e 5000 dedicato a Bellini. Il Papa ha nominato vescovo di Ischia Don Pietro Lagnese, parroco proveniente dalla diocesi di Capua. Il neovescovo è nato nel 1961 ed è sacerdote dal 1986. Prende il posto ad Ischia del vescovo Filippo Strofaldi. Concludiamo così il nostro telegiornale. Arrivederci. Raffinati dettagli che arredano il tuo mondo. Tu fanno arredamenti, qualità, ricercatezza, stile, design per arredare i tuoi spazi. Dal classico al moderno, delle migliori case italiane. Da Tufano Arredamenti puoi visitare l'esclusivo showroom dedicato alle cucine Verloni. Da Tufano, qualità dei servizi, personale qualificato, consulenza personalizzata, trasporto e montaggio a regola d'arte, assistenza post vendita, fanno la differenza. Tufano Arredamenti, piazzale Ferrovia, Saviano, www.tufanoarredamenti.it. Per ogni arredamento completo un televisore LCD 32 pollici in omaggio.